Io sono Massimiliano Tabusi, sono un geografo e lavoro all'Università Pestanieri di Siena e faccio parte, fin dall'inizio della rete 29 aprile, questo incontro dal titolo I Misteri dei Dipartimenti di Eccellenza, quindi ecco un po' il clima del mistero, Genesi, Anatomia e Ideologia, è un incontro che vede l'organizzazione di Roars, quindi Retal on Academic Research, roars.it, chi non dovrebbe se riconoscere il link ma sono sicuro che tutti e tutti qui lo conosciamo, il Circolo Culturale Giorgio Herrera di Pavia, su cui Giuseppe forse dirà qualcosa in più di quello che io possa dire ora, e la rete 29 aprile stessa, su particolare propulsione di Cristina Barbieri e Vidovide Fernanza, che anche vedo, e un paio di colleghi di cui adesso non ricordo il nome. Comunque il nodo agisce per il Corpo Nazionale, quindi vedo anche Gianfranco Bocchino, presidente della rete 29 aprile, che si è unito a noi per questo incontro. A me spetta la moderazione e dare la parola, ma abbiamo una sola persona che interviene, quindi il compito è semplicissimo, ma forse riuscirò a far casino anche così. Comunque brevissimamente dal punto di vista della rete 29 aprile parliamo di una cosa fondamentale, Quindi parliamo di questi dipartimenti di eccellenza, di questa scatola magica in cui ogni tanto veniamo proiettati per capire se siamo bravi o se siamo stolti, insomma, in che categoria dobbiamo inserirci. E questa scatola magica ha dei funzionamenti che non a tutti sono noti per usare un eufemismo, diciamo a pochi sono noti in realtà perché sono piuttosto complessi. A me fa un po' l'impressione che fa l'espressione tempi tecnici, quando si va in un ufficio e chiedi di fare una certa cosa e ti dovesse rispondere che non si può fare, perché la persona che doveva farla quel momento è uscita a prendere il cappuccino e forse domani torna, magari non la prendi bene. Se ti dicono che i tempi tecnici per la tua pratica sono di due giorni, tu davanti ai tempi tecnici, alzi le mani perché non sai cosa c'è dietro, però magari dietro questi tempi tecnici sono una serie di passaggi che capiresti benissimo. Però è un'espressione, come dire, un po' il velo del prestigiatore che nasconde delle cose. Certo fa un po' specie, fa un po' curiosità che gli intellettuali, se così vogliamo definirli, quindi gli universitari, spesso siano soggetti a situazioni normative per cui capiscono poco o nulla. Cioè noi come universitari parliamo verso l'esterno un po' dell'universo mondo, però se possiamo parlare del nostro sistema a volte non sappiamo neanche bene come funziona. Si tratta di un dispositivo, userei un approccio focoltiano in questo caso, un dispositivo geniale che è stato avviato in un periodo di tagli, sottaglio continuamente, lo ricorderemo, i fondi vari, il fondo finanziamento ordinario, ma anche gli scatti stipendiali, il dimagrimento del corpo docente, il dilagare del precariato, in cui invece di dire guardate riduciamo fortissimamente le risorse, dicono adesso diamo delle risorse ai più bravi, quindi togliendole ad alcuni, dandole agli altri, dandole risorse normali ad alcuni e molto meno del necessario a tutti gli altri. E questo insomma è geniale. Io faccio il geografo e secondo me le classifiche hanno un po' l'effetto che hanno le carte geografiche da un certo punto di vista. Se tu vedi una carta geografica ti concentri su quello che conosci, la tua città, le vie di comunicazione. Quando vedi una classifica cominci a vedere dove sei tu, dove sono gli altri, cominci a fare delle congetture del perché sei lì e quando cominci a fare questo ragionamento sei perso, perché se sei nella metà vincente ti sentirai bravo e diventerai un fautore di questa classifica. Se sei nella metà perdente probabilmente non potrai neanche dire molto, perché tutti gli altri che stanno nell'altro lato diranno beh, e questo parla così perché è un fallito, cioè qualcuno che si trova non è riuscito a ottenere il risultato che desiderava. Quindi perché parlavo di dispositivo? Se sei un dipartimento povero, un ateneo povero, un territorio povero, beh, te lo meriti, è colpa tua e te lo dimostriamo con gli indicatori un po' complessi e adesso cercheremo di capirne di più. Però un meccanismo di spostamento dell'attenzione che conosciamo molto bene, che a un certo punto crea conflitti e contraposizioni sia dentro i singoli dipartimenti, Tizio ce l'ha con Caio perché pensa che ha abbassato il valore di tutto l'intero dipartimento, oppure il dipartimento 1 con il dipartimento 2 perché pensa che ha abbassato il valore di tutto l'ateneo, oppure nei vari territori noi abbiamo delle aree del paese che saranno piuttosto scoperte da questi fondi ed altri invece che hanno un po' più di risorse. Stiamo andando, vado in chiusura, verso lo spezzettamento, l'iperfragmentazione di quello che una volta era stato il sistema universitario italiano, un pezzo per volta, ma sono tanti questi pezzi. Se fate un salto sul sito della Rete 29 Aprile per fare un esempio molto terra e terra, troverete un'indagine in corso sui fondi che sono i fondi interni di ricerca, qualcuno li chiamava ex 60%, non so se ve lo ricordate, non so neanche se nel vostro ateneo ci sono. E scopriremo che in alcuni atenei meritoriamente questi fondi sono di 8.000 euro l'anno, senza dover rendimentare granché, in altri atenei non ci sono per nulla, in mezzo c'è tutto quanto un mondo e quindi noi che abbiamo queste differenze come siano importanti. Tutto questo sistema di cui parleremo fra un attimo, Giuseppe Nicolao ci racconterà il funzionamento nel dettaglio, a me pare, anche alla Rete 29 Aprile, abbiamo detto che abbiamo fatto diverse battaglie su questo, anche insieme a Roars, il trionfo dell'ipocrisia. Pensiamo ad esempio che la VQR nasce per valutare i dipartimenti, l'ANVO stessa ha detto più volte che non aveva senso il valore individuale, che non doveva essere neanche rilasciato e poi è stata fatta tutta una normativa per cui non si poteva stare nei dottorati se non si aveva un certo livello di VQR, con una serie di raggiri per fornire questo dato che invece in teoria non doveva essere neppure fornito. Quindi, tralascendo alcuni elementi come la differenza della VQR tra i settori delle scienze dure e gli altri, nel mio caso, quello della geografia, a mio parere non solo mio, tu puoi avere una VQR altissima se il tuo paper lo legge Caio, se invece lo legge Centronia, poi leggi avere zero, quindi voi capite che è un po' complicato andare a dare la massima affidabilità a questo. Anche se l'indicatore matematico, il sacro algoritmo, fosse perfetto, e chi lavora negli atenei avrebbe forse voce in capitolo per impegnarsi su un approccio diverso con maggiori investimenti sulla ricerca di base e la ricerca diffusa, perché non stiamo parlando di un giochino, stiamo parlando del fatto che un dipartimento, un ateneo, possa andare avanti in un certo modo o no, delle persone precarie possono uscire dal precariato, insomma stiamo parlando di una cosa serissima, anche intere aree del paese possono averne un effetto. Però l'algoritmo sembra tutt'altro che perfetto, no? Quindi sentiamo adesso la Giuseppe Vincolau, io lo ringrazio moltissimo per questo, perché da anni apre le scatole, Giuseppe non dico rompe le scatole, apre le scatole sacre per farci vedere, a volte con l'aiuto di Alte Rego come Peppe e Gedeone, curiosamente tranne le vocali qualche assonanza con GDN, che ci mostra in termini molto semplici cosa c'è in queste scatole e consente a tutti e tutte quelle che vogliono di guardarci dentro. Scusate, ho stato forse un po' lungo e devo aver dimenticato magari qualcosa, non facendo bene il mio dovere introduttivo, però perdonatemi, darei la parola a Giuseppe, sia per completare magari sul circolo Herrera che le altre cose dovresti aver saltato e poi entrare nel vivo e anch'io mi metto a prendere a punto. Grazie. Grazie mille Massimiliano. Ecco, allora io comincio anche a condividere, vediamo se riesco a trovare, nel momento in cui voglio condividere, eccolo qui, l'ho trovato, non trovavo il file, benissimo, faccio pieno schermo e vado all'inizio, non anticipiamo troppe cose. Ecco, io devo aggiungere pochissime cose, il seminario è organizzato in collaborazione da Rete 29 aprile, 29 aprile del 2010, che è una data importante, un anno importante, perché è l'anno in cui è stata varata la riforma e le altre due realtà che organizzano, che sono Roars e il circolo Herrera, direi che debbono entrambi molto la Rete 29 aprile, perché nascono un po' sull'onda di quell'esperienza di mobilitazione in cui ci si è resi conto che l'università era un bene anche in pericolo, in qualche modo. Quindi Roars nasce l'anno dopo e in quegli anni nasce anche il circolo Herrera, che è una realtà, un circolo universitario pavese, che prende il nome da Giorgio Herrera, che era un professore di chimica del nostro Ateneo, che fu uno dei pochi docenti che si rifiutarono di giurare quando fu imposto il giuramento durante il regime fascista ai docenti universitari. Quindi, diciamo, la scelta di un nome che non è per nulla casuale è un circolo che da molti anni svolge un'attività a Pavia che ha il merito di essere un'attività ispirata a una visione, diciamo, dell'università e anche della responsabilità civile e che non è agganciata a singole aree tematiche, dipartimenti e così via. Quindi è un circolo trasversale in cui sono presenti docenti di tutte le aree scientifiche. Ecco, allora, voi sapete che da poco è stata pubblicata la classifica dei dipartimenti di eccellenza per questa nuova gara che è in corso e è sorta una domanda collettiva di chiarezza perché molti sono rimasti disorientati dai risultati. Noi, come Roars e io in particolare, per molti anni fa avevo cominciato a studiare questi algoritmi, e anche in base agli stimoli che ho ricevuto mi è sembrato che fosse utile provare a spiegare in pubblico quello che si è capito, quello che ancora non si è capito e tante altre cose. Allora, questo è un indice della mia presentazione. Partirò dalla pietra filosofale della competizione e poi, come vedete, ci sono vari punti, in particolare un interessante confronto tra i grecisti e i Nobel per la fisica, la legge dell'imbuto, c'è anche una vasca da bagno, una classifica segreta, una svista che forse vale un ricorso al TAR e poi, diciamo, il fine giustifica i mezzi e vedremo perché. Allora, il punto di partenza, a mio parere, è quello che ho chiamato la pietra filosofale della competizione, perché noi ormai siamo dentro questa logica di una gara tra i dipartimenti, ma non è sempre stato così. E qui io vado indietro al 2013, siamo al 30 giugno 2013, che è la data in cui esce il risultato della prima VQR e quello che vedete è un estratto dal rapporto finale AMBUR. E in questo estratto viene chiarito quali sono le finalità della VQR. In maniera molto esplicita viene detto che tra queste finalità non c'è il confronto della qualità tra aree scientifiche diverse, così. E viene anche spiegato perché sostanzialmente per come è stata fatta la VQR, i voti che vengono, diciamo, formulati sugli articoli, le monografie, i prodotti della ricerca, come vengono chiamati, un termine che non mi piace, così, tutti questi voti non sono in realtà, diciamo, confrontabili quando si considerano aree o settori scientifici diversi. E qui è spiegato abbastanza bene. E alla fine c'è un'espressione anche molto, molto dura, perché viene detto le tabelle che riuniscono i risultati delle valutazioni nelle varie aree devono essere esaminate una per una. Quindi, diciamo, è come se ci fossero, ai tempi noi dicevamo, come se ci fossero 16 VQR, perché alcune delle 14 aree CUN erano divise in una sottoarea bibliometrica e una sottoarea non bibliometrica. Quindi, sostanzialmente, era come se esistessero 16 VQR che non potevano essere confrontate per fare graduatorie di merito. Venivano usate tutte insieme per fare il finanziamento, però veniva spiegato chiaramente che il passaggio dei voti nelle aree al finanziamento dipendeva da dei pesi, cioè quindi io decidevo che dei voti, che ne so, nella fisica o dei voti nelle scienze giuridiche dovesse essere, diciamo, calibrati per diventare euro, però era una decisione che non aveva una valenza di merito, era semplicemente una decisione che era legata a un finanziamento. E una frase di questo tipo non lascia adito a dubbi. Da un certo punto di vista era un'affermazione del tutto sensata e se vogliamo approfondirla, quando l'Ambur diceva fare confronti tra le diverse, un esercizio senza alcun fondamento metodologico scientifico, sta dicendo una cosa ovvia. Per poter confrontare un voto A, che adesso è equivalente, eccellente ed estremamente rilevante, ottenuto in fisica, con un A, eccellente ed estremamente rilevante, ottenuto in matematica, come faccio a confrontarli una volta che in partenza ammetto che si usano dei metri di giudizio diversi? Bisognerebbe avere, diciamo, una specie di metro indipendente che consente di comparare cose che stanno in mondi diversi. Per esempio, come faccio a dire che un A in fisica vale il doppio di un A in matematica? Non sembra esserci nessun modo, non una scelta arbitraria. Potrei dirlo, per esempio, dal punto di vista dei finanziamenti. Potrei dire che la ricerca in fisica richiede dei laboratori, richiede strumentazioni che invece il matematico che dimostra teoremi non ha bisogno di usare. Allora lì potrei dire che un A in fisica vale il doppio, in termini di euro, di un A in matematica, però non posso associare questo diverso finanziamento a un giudizio di merito. Quindi non posso fare, per esempio, una classifica tra un dipartimento di matematici e un dipartimento di fisici. Da questo punto di vista, l'idea che ci sia un algoritmo che tramuta questi voti in classifiche oggettive è una specie di pietra filosofale che tramuta il piombo in oro. Cioè i voti a VQR sono piombo e non si vede come il piombo possa diventare oro. O, se vi piace, anche sarebbe come un congegno che realizza il moto perpetuo. Ogni tanto salta fuori qualcuno che dice di aver realizzato il moto perpetuo. Chi conosce la termodinamica sa che non è possibile, però, diciamo, questo non scoraggia gli inventori della domenica. Ecco, qui Anvur non lo diceva, ma dal punto di vista tecnico, per arrivare a, diciamo, un algoritmo che sia difendibile, c'è un ulteriore problema che è quello delle dimensioni. Ecco, io vorrei specificare che in linea di principio credo che sia vano cercare di fare classifiche sulla ricerca, perché anche all'interno della stessa area disciplinare, come fai a dire che, che ne so, una ricerca sulla robotica è meglio di una ricerca sul calcolo variazionale. Insomma, nel mio campo dell'ottimizzazione, del controllo, del controllo automatici, ci può essere chi lavora sul calcolo variazionale e chi lavora sulla robotica. sembra veramente difficile poter dare una misura di queste cose. Però, diciamo, se uno vuole avventurarsi in queste cose, ha almeno il vincolo logico di, diciamo, non dire cose che sono palesemente assurde. Quindi, anche ammettendo di volersi imbarcare in questa impresa, un primo problema è quello che abbiamo visto prima e che la stessa Ambur aveva riconosciuto. Un secondo problema è che, se si vuole fare una classifica di atenei o di dipartimenti, ci si trova a confrontare delle istituzioni che hanno dimensioni diverse. C'è un dipartimento con 30 docenti e un dipartimento con 120 docenti. Questo è un problema che esiste anche per tutte le classifiche, tutti i ranking universitari e nessuno è stato mai capace di risolverlo. Tant'è vero che a seconda del ranking si sa benissimo che i ranking sono sensibili alle dimensioni in una maniera o nell'altra. Per esempio, il ranking, quello di Shanghai, quello chiamato anche ARVU che esce a Ferragosto, favorisce le università di dimensioni più grandi. Per cui, in Italia, la prima università tipicamente, se non è Sapienza, è Padova, sono i megatenei o Bologna che vanno in cima. Tant'è vero che poi i giornali poi scrivono i loro articoli e chi sa come funzionano queste cose ride sotto i baffi perché dice bella scoperta. Mentre invece Time's Higher Education ha un meccanismo soprattutto sulla parte bibliometrica che privilegia invece gli atenei piccoli ma con delle cose anche strane. A un certo punto Alessandria d'Egitto era finita nelle prime 200 università superando tutte le università italiane grazie a un solo docente che essendo diciamo editor di una rivista si pubblicava i suoi stessi articoli insomma ecco perché in quel caso invece privilegia l'università piccole ed è molto instabile dell'algoritmo ecco questo tema qui tra l'altro è un tema che è noto a livello statistico questo qui è un'altra delle caratteristiche italiane che la valutazione è fatta come attività dopo lavoristica da un certo punto di vista cioè i nostri tecnici della valutazione tipicamente riscoprono la ruota poi in genere la scoprono quadrata per qualche ragione cioè provano a riscoprire la ruota ma non gli viene neanche tonda viene quadrata e si addentrano a riscoprire l'acqua calda la ruota eccetera con una ignoranza diciamo abbastanza completa della letteratura questa è una caratteristica diciamo che ho imparato a conoscere e a non apprezzare ecco questo tema del confronto di istituzioni di dimensioni diverse è stato affrontato per esempio da uno credo dei maggiori statistici viventi che è David Spiegel Holter il quale intorno agli anni 2005 aveva scritto una serie di articoli che erano legati alla valutazione degli ospedali essenzialmente quindi era la sanità britannica in cui effettivamente sorgeva il problema di capire se il monitoraggio delle prestazioni delle strutture sanitarie potesse essere fatto tramite ranking o tramite qualche altra tecnica e studiando questo questo tema con degli articoli che diciamo chiunque può trovare leggere e capire aveva concluso che there is no basis for ranking the hospitals e la ragione era fondamentalmente un problema di dimensioni diverse degli ospedali cioè alcuni ospedali sono grandi alcuni sono piccoli questo crea dei problemi sugli intervalli di confidenza per esempio questo qui è un grafico preso dal suo articolo qui l'idea era di fare una classifica degli ospedali in base a un rate di mortalità dei pazienti questo qui è il trattamento della frattura dell'anca quindi la mortalità 30 giorni di pazienti che hanno una frattura dell'anca allora se uno fa il ranking va a confrontare dove stanno i pallini sull'asse delle X avete la percentuale di mortalità quindi gli ospedali migliori sono quelli che stanno a sinistra naturalmente perché hanno una mortalità più bassa però vedete quelle barrette orizzontali quelle barrette orizzontali sono gli intervalli di confidenza cioè in qualche modo è vero che voi avete una mortalità media però ci sono degli elementi di stima statistica che fanno sì che voi non potete ritenere quel valore assolutamente affidabile e se tenete conto di quello che è l'intervallo di confidenza si scopre che praticamente tutti gli ospedali hanno un intervallo di confidenza che si sovrappone con la mortalità media di tutto il sistema che è il 9,3% quindi in pratica quasi nessun ospedale ha una mortalità che si discosta in maniera statisticamente significativa da quella che è la mortalità media del sistema quindi da questo punto scatenare una gara probabilmente non ha molto senso tra l'altro nel campo sanitario immaginate sugli operazioni chirurgiche se si scatena una gara sulla mortalità uno degli effetti è che un bravo chirurgo che forse è l'unica persona che può salvarvi la vita a un certo punto preferisce non operarvi perché se voi siete 50-50 lui rischia di peggiorare il suo ranking quindi preferisce fare operazioni facili che gli aumentano il ranking e se voi siete 50-50 vi attaccate perché in ogni caso diciamo prevale il discorso del ranking ecco quindi qui sembrava una situazione abbastanza tranquilla quindi Anvur forse non aveva capito tutto però qualcosa l'aveva capito e aveva detto no questa è un'attività priva di fondamento scientifico nel 2017 succede qualcosa esce la seconda BQR andiamo a leggere il rapporto troviamo la stessa frase nel senso il paragrafo che sta sopra è identico è cambiato il paragrafo sotto il paragrafo sotto dice pertanto le tabelle che per comodità di visualizzazione eccetera non devono essere utilizzate per costruire graduatorie di merito tra le aree stesse un esercizio che richiede l'utilizzo di diverse differenti metodologie quindi è interessante scopri le differenze nel 2013 era un esercizio senza alcun fondamento metodologico scientifico nel 2017 un esercizio che richiede l'utilizzo di differenti metodologie come richiesto dalla legge di stabilità meraviglioso a mio parere questo nel senso che l'agenzia di valutazione che valuta la ricerca scientifica dovrebbe avere il metodo scientifico credo come stella polare però invece quello che non ha nessun fondamento metodologico scientifico se lo chiede il legislatore a questo punto diventa possibile così direi che questo a questo punto non dice ma cosa è successo tra il 2013 e il 2017 dal certo punto di vista abbiamo una specie di rivoluzione copernicana mentre prima non era pensabile che diciamo che la terra girasse intorno intorno al sole invece adesso diciamo il mondo si è rovesciato allora cos'è successo è successo che nel 2014 la Cruy aveva messo in piedi una commissione sotto diciamo il titolo di collaborazione Anvur Cruy per trovare delle tecniche per valutare in maniera automatica i dipartimenti questo ha generato una serie di documenti qui ho cercato di recuperarli spero tutti o quasi tutti che erano questi primi documenti curati da Giacomo Poggi che presiedeva quella commissione il quale come vedete all'inizio sfornava documenti con una frequenza notevole il problema è che ne sfornava uno ci si accorgeva che c'erano un po' di problemi tecnici e quindi veniva subito sfornato una revisione e così via poi è venuto fuori questo volume curato dalla Cruy e infine abbiamo la nota metodologica per il calcolo dell'ISPD quindi questa qui è la genealogia dell'ISPD l'ISPD nasce nel 2014 ecco allora dobbiamo cercare di capire quella cosa senza alcun fondamento scientifico come ha potuto diciamo invece passare nel novero delle cose fattibili e da questo punto di vista quindi vuol dire che siamo in grado di confrontare un grecista con un Nobel per la fisica abbiamo un metodo oggettivo per fare questo confronto allora andiamo a leggere sui documenti che hanno generato l'ISPD allora si parte con un primo riconoscimento che ci sono delle difficoltà dice confrontare un dipartimento di lettere e filosofie con uno di matematica è un'impresa complessa da molti considerata impossibile dalla stessa agenzia di valutazione fino a qualche tempo prima per dare un'idea di come sia possibile superare questo problema dice consideriamo un caso limite confrontare valutazioni assegnate a membri di settori molto diversi il grecista il fisico per esempio il confronto è non banale ma è sbrigativo sostenere che sia impossibile e che cosa propone questa commissione della Cruy dice potremmo usare un metodo ispirato a quello cui fanno ricorso le università più prestigiose trovo meraviglioso anche questo riferimento all'università più prestigiose come legittimazione tipicamente negli USA naturalmente che quando chiedono informazioni su uno studente chiedono il percentile della distribuzione dei voti quindi la chiave di volta è quello di guardare il percentile quindi sostanzialmente uno dice se ho uno studente se lui si colloca nel top 5% vuol dire che è nel ventesimo di studenti più bravi e quindi diciamo a questo punto in qualche modo ci siamo capiti insomma quindi anche se i voti che usiamo qui in Italia sono in trentesimi gli diciamo che è nel top 5% e i nostri amici statunitensi capiscono subito ok allora com'è che si fa a usare i percentili allora il punto è quello di avere delle distribuzioni che sono diverse per esempio qui avete due distribuzioni che sono rappresentate con un istogramma nel primo caso diciamo immaginate che siano come dei voti potrebbe essere che siamo a scuola e quindi c'è un professore che dà dei voti da 5 a 9 mentre invece c'è un altro professore che è più cattivo che ogni tanto ti rifila un 2 e proprio cattivissimo non dà mai più di 6 sostanzialmente ecco allora uno viene il dubbio che non è vero che gli studenti della seconda classe sono più asini di quelli della prima classe semplicemente hanno un professore più severo com'è che facciamo a rendere confrontabili i voti della prima classe che sono un pochino più di manica larga con i voti della seconda classe ecco allora per fare questo si utilizzano i cosiddetti z-scores quindi la nozione chiave è quella degli z-scores allora qui ho provato a cercare di illustrare anche per chi non è pratico per chi è pratico chiedo di avere un filo di pazienza nel senso che sono cose che conosce fin troppo bene allora immaginate che qui avete le due classi quindi qui c'è una classe con i voti più bassi e una classe con i voti più alti e ovviamente immaginate un voto pari a meno 2 nella prima classe e un voto pari a 3 nella seconda classe qui la linea tratteggiata è la distribuzione dei voti esattamente come questo istogramma immaginate che sia questo istogramma quindi questo qui mi dice che pochissimi studenti prendono meno 7 o meno di meno 7 pochi prendono più di 2 tra quelli della classe blu invece per quelli della classe rossa quasi nessuno prende meno di 0 e quasi nessuno prende più di 7 allora se uno ha un meno 2 e sta nella classe 1 in effetti sembra abbastanza logico che sia equiparabile a un 3 per la classe 2 perché è equiparabile perché tutti e due corrispondono al picco della campana sostanzialmente cioè questo qui è la situazione più frequente lo studente medio in pratica quindi questo qui è lo studente medio se uno prende meno 2 è uno studente medio se prende 3 per la seconda classe è uno studente medio quindi direi che qui l'equivalenza è abbastanza comoda come potremmo però confrontare un 2 per la classe blu con un 4 per la classe rossa come si fa ecco la risposta è che lo si fa attraverso il cosiddetto z-score devo prendere il voto sottrarre la media quindi nel caso dello studente blu dovrò sottrarre il meno 2 dovrò sottrarre il meno 2 e nel caso dello studente rosso dovrò sottrarre 3 perché la media è 3 e poi devo dividere per una quantità che si chiama sigma che è la deviazione standard in altri termini questa quantità sigma ha a che fare con la larghezza della campana quindi il sigma per la curva blu è più grande per la curva rossa è più stretto ecco questa qui è la formula diciamo dello z-score come viene chiamato proviamo ad applicarla nel caso del primo voto devo fare 2 meno meno 2 meno e meno fa più quindi 2 più 2 la deviazione standard la vedete qui è 2 quindi diviso 2 4 diviso 2 fa 2 nel secondo caso che il voto era 4 devo fare 4 meno 3 diviso 1 perché la deviazione standard era 1 e ottengo 1 e quindi scopro una cosa interessante che lo studente che aveva preso 2 è secondo questo criterio più bravo di quello che aveva preso 4 perché è più bravo perché se vado a vedere le due curve nel caso della classe blu sono pochissimi quelli che prendono più di 2 mentre invece nel caso della classe 2 nella classe rossa ce n'è una certa percentuale che prende più di 4 quindi questo 2 per quanto sembri basso è eccezionalmente buono eccezionalmente buono e quindi è giusto secondo un certo punto di vista che prevalga sul 4 ecco spero di essere riuscito a spiegare sono cose diciamo un po' elementari però non tutti immagino che siano pratici geniale vero? ok allora a questo punto andiamo subito sui voti VQR abbiamo trovato in certo senso la pietra filosofale tra l'altro era portata di mano come mai nessuno ce l'ha pensato prima no? così allora questa slime è venuta da chiamarla 1 non vale 1 adesso senza nessuna allusione diciamo ad altre vicende così allora posso fare lo z score dei voti VQR quindi voi avete visto qui che l'idea è che lo studente della classe 1 qui aveva preso 2 no? aveva preso 2 e per un gioco del destino rimane 2 ma lo studente della classe rossa aveva preso 4 e lo z score vale 1 quindi vuol dire che i voti originali devono essere trasformati allora a questo punto io faccio questa operazione vado a trasformare i voti di FIS02 che è un settore scientifico di fisica come li devo trasformare? devo sottrare il valore medio e dividere per la deviazione standard con un po' di pazienza uno prende i dati del rapporto VQR e queste informazioni si trovano allora scopro che una stiamo parlando della VQR passata che un A in FIS02 in realtà vale 0,73 un B che valeva 0,7 invece meno 0,30 un C che era 0,4 meno 1,34 un D che vale 0,1 diventa meno 2,38 e uno 0 che è un prodotto mancante per esempio meno 2,72 quindi se io faccio questa standardizzazione che diciamo quella commissione CRU mi dice che è una standardizzazione improntata a un principio di equità è come se io stessi facendo una VQR in cui i colleghi di FIS02 non ricevono i punteggi standard cioè non ricevono 1,07 0,4 0,1 ma se hanno un prodotto eccellente ricevono 0,73 se hanno un B addirittura prendono un voto negativo ecco attenzione che nello Z-score la media fa 0 per cui sono possibili anche i voti negativi andiamo a vedere lo Z-score invece di un altro settore che è L-Lin 20 L-Lin 20 è greco moderno sostanzialmente letteratura greca moderna quindi questo qui è un grecista che si occupa che ne so di Kavafis immagino allora in questo caso di nuovo si fa quell'operazione quindi si toglie il valore medio si divide per la deviazione standard evidentemente il valore medio è più basso la deviazione standard è piccola e cosa succede? mentre nel caso di Fis 0,2 l'1 si stringeva diventata 0,73 qui l'1 diventa 3,17 quindi questo significa che il nostro grecista che il cui prodotto della ricerca per esempio una bella monografia su qualche romanziere greco moderno è stato ritenuto eccellente prenderà 3,17 punti in questa cosa qui ecco questo è la traduzione del metodo diciamo dello Z-score così c'è una differenza enorme ecco questa è una cosa che credo che i colleghi tranne eccezioni non abbiano percepito cioè quando si entra nel gioco dei dipartimenti di eccellenza in qualche modo è come se noi tutti avessimo partecipato a una VQR a me vorrebbe chiamare una VQR ubriaca in cui a seconda dell'SSD in cui tu i trovi hai dei punteggi che possono essere completamente diversi da quello del collega dell'ufficio di fianco così qui siamo tra fisici e grecisti ma come vedremo anche nello stessa area scientifica ci sono delle differenze enormi allora vediamo un attimo Giorgio Parisi che stava in FIS02 all'epoca io immagino che avesse presentato due prodotti valutati entrambi eccellenti d'altronde premio Nobel per la fisica insomma allora due prodotti eccellenti ai fini dei dipartimenti di eccellenza valevano 1,46 prendiamo invece il nostro collega studioso di greco moderno di letteratura greca moderna magari anche lui ha fatto due prodotti eccellenti ma grazie allo Z-score il suo punteggio diventa 2 per 3,17 6,34 punti quindi un grecista moderno vale più di 4 Nobel per la fisica così adesso lungi da me diciamo no io penso che non siano confrontabili semplicemente però nel momento in cui voglio costruire questo enorme baraccone questa gara c'è questo fenomeno un po' strampalato per cui praticamente non so un dipartimento di fisica in cui c'è un premio Nobel se vuole vincere la gara forse dovrebbe pensare a mettere dentro qualche grecista insomma potrebbe cercare di arruolare qualche grecista va bene insomma voi dite questo è il solito De Nicolao che cerca di trovare esempi tirati per i capelli insomma c'è il controesempio e così via dice magari se metto proprio a confrontare fisica e lettere moderne non funziona tanto bene anche se però diciamo la pretesa che debba funzionare nel senso che eravamo partiti proprio dicendo volevamo confrontare l'inconfrontabile ma se per esempio prendo due dipartimenti di fisica vedrai che funziona bene questa cosa qui allora prendiamo fis02 e fis08 che sono due settori di fisica allora in fis02 073 un punteggio abbiamo già visto prima invece in fis08 è 2,37 quindi ci sono dei fisici di serie A e dei fisici di serie B il premio Nobel è di serie B naturalmente perché sta in fis02 così quindi se io ho Giorgio Parisi che ha due prodotti valutati A mi valgono 1,46 ma se invece ho uno storico della fisica un po' bravo perché fis08 è storia didattica della fisica questo qui mi vale 4,74 punti con i suoi due prodotti eccellenti quindi se io voglio mettere il turbo e vincere la gara tra i dipartimenti di fisica non è tanto importante reclutare Giorgio Parisi ma invece devo trovarmi qualche storico della fisica bravo fermo restando che è importantissima la storia della fisica però questo mette in evidenza un po' quanto sia buffo cercare di fare le classifiche diciamo tra di noi e che qualche volta riusciamo a farle veramente in maniera strampalata ecco siamo debitori di questi esempi che vi ho appena fatto al collega Bertoli Barsotti che diciamo nel 17 ha avuto il colpo di genio di costruire le tabelle con tutti gli z-score di tutti i settori scientifici e voi trovate in Roars queste tabelle che purtroppo dipendono dalle distribuzioni del 2000 della VQR passata quindi non sono utilizzabili per capire cosa è successo nei dipartimenti di eccellenza del 22 però sono utilizzabili per capire cosa era successo nella precedente edizione e qui ho ricopiato le tabelle che il collega Bertoli Barsotti aveva preparato per esempio vedete matematica anche matematica si passa da un 1,56 a 0,72 c'è un fattore 2 quindi un dipartimento di matematica ha delle chance di vincere la gara tra i dipartimenti di eccellenza in funzione anche della sua composizione interna cioè se lui ha tanti mat 0,9 fa fatica ovviamente se tu hai tanti mat 0,4 è un'arma a doppio taglio nel senso che se sono bravi e prendono eccellente è come accendere il turbo se vanno male vedete che ovviamente possono avere dei punteggi negativi però mat 0,9 può essere catastrofico nel senso che mat 0,9 se vinci prendi poco e se perdi ti prendi delle batoste meno 2,47 così questo fa capire che mentre noi pensiamo a questa gara come una gara in cui per esempio un dipartimento del nostro ateneo è risultato eccellente e dice beh sono bravi dai sono bravi sono più bravi di noi tutto sommato in realtà probabilmente hanno una specie di composizione magica che li favorisce probabilmente hanno qualche settore in cui lo zeta score è particolarmente particolarmente favorevole questo qui è chimica anche in chimica si va da 237 a 0,7 scusate questo è fisica l'abbiamo già visto da 237 a 0,71 questo c'è anche chimica sotto sotto fisica c'è anche chimica come potete vedere c'è scienza della terra medicina medicina è interessante perché anche medicina ha dei valori molto alti così agraria veterinaria questo qui ingegneria civile ingegneria industriale dell'informazione io per esempio sono un inginf 04 per dire anche se ho dei prodotti eccellenti valgono un misero 0,82 così come faccio a vincere contro un dipartimento di meccanica in cui ci sono un sacco di ingind gli ingind hanno a volte hanno addirittura dei coefficienti di 1,8 cioè è come correre a piedi contro uno che va in bicicletta sostanzialmente tanto è vero che per esempio non so i colleghi del Politecnico di Milano in qualche modo la volta scorsa avevano visto il loro dipartimento di meccanica che era finito al top e invece il dipartimento di ingegneria elettronica e informazione era parecchio sotto e anche lì loro magari si sentivano un po' sminuiti però in realtà non c'era storia ecco questo invece è il settore l'area 10 dove c'è il famoso grecista che vale 3,17 però c'è anche chi ha un bel 2,58 e così via e poi c'è anche qualcuno che è miserabile 0,85 insomma così cioè quelli lì dovresti cacciarli via sostanzialmente questo è l'area 11 e l'area 11 gli psicologi anche loro hanno delle belle carte alcuni settori di psicologia vanno forti e questo probabilmente spiega perché il miglior dipartimento di fisica nella scorsa gara per l'eccellenza era un dipartimento in cui c'erano pochi fisici tanti psicologi e in quell'ateneo non c'era neanche il corso di laurea in fisica perché era così perché era un dipartimento di scienze cognitive che metteva assieme psicologi e fisici e i fisici facevano il loro onesto mestiere e però invece il diciamo il turbo lo mettevano gli psicologi che avevano lo z-score più favorevole questo è invece giurisprudenza scienze giuridiche questo economia anche qui ci sono delle belle discrepanze si va da 2,29 a 0,69 quindi per dire a seconda di come è un po' come il fantacalcio cioè tu dovresti sceglierti bene i tuoi i professori nel dipartimento per creare una specie di squadra vincente e questo è l'area 14 scienze politiche e sociologia ok quindi direi che questo è già fondamentale nel senso aver già visto la questione degli z-score credo che faccia capire quanto sia difficile decifrare il risultato di questa gara per eccellenza per l'eccellenza però c'è un ulteriore problema per queste classifiche ed è legato alla legge dell'imbuto no vi ricordate che Spiegel-Holter l'abbiamo già citato dice there is no basis for ranking the hospitals e c'era questo grafico con gli intervalli di confidenza Spiegel-Holter per spiegare meglio il perché non c'è base per il ranking propone anche un altro grafico che lui chiama funnel plot grafico imbuto in cui vedete questo qui è un grafico bidimensionale sull'asse delle X c'è il numero dei casi cioè c'è una misura che ha a che fare con le dimensioni in questo caso sono il numero di pazienti che sono stati trattati per la frattura dell'anca chiaramente un ospedale grosso può arrivare a gestire anche più di 500 pazienti un ospedale magari piccolo ne può gestire 80 così quindi diciamo c'è una misura dimensionale sull'asse delle Y invece c'è la percentuale di morti entro 30 giorni quindi qui si vedono delle cose interessanti perché si vede per esempio che gli ospedali migliori sono quelli con pochi morti naturalmente quindi qual è l'ospedale che vince la gara l'ospedale che vince la gara è questo qui è questo perché ha una percentuale di morti entro 30 giorni che è nettamente inferiore al 5% così però guarda caso un ospedale piccolino che gestisce un centinaio di casi mentre invece qui c'è un ospedale grosso che ne gestisce più di 500 e non va per niente bene insomma cioè ha più del doppio della percentuale di morti però è interessante che quando uno guarda questi punti questo quello in gergo si chiama uno scatter plot un grafico di dispersione quando guarda questi punti vede che sono diciamo disposti a imbuto e da che cosa nasce questa disposizione a imbuto? Nasce da una proprietà statistica nel senso che quando tu gestisci pochi pazienti la percentuale di mortalità diventa per ragioni statistiche molto volatile nel senso che un anno ti va male e quindi hai una mortalità alta l'altro anno ti va bene e hai una mortalità più bassa se invece tu gestisci 500 casi la mortalità che è calcolata come percentuale di pazienti che muoiono su quelli trattati non può cambiare molto di anno in anno per ragioni di tipo statistica è la numerosità del campione che interviene siccome c'è questa proprietà dell'imbuto è chiaro che fare una classifica è privo di senso perché alla fine vincerà sempre qualcuno che sta nella parte sinistra dell'imbuto perché la parte sinistra dell'imbuto è quella che diciamo ha la maggiore escursione quindi se vado a cercare le mortalità basse le troverò sempre qui e tipicamente saranno ospedali che poi l'anno dopo magari possono avere una mortalità diversa anche molto molto peggiore sostanzialmente quindi quando ci si trova a che fare con un imbuto la parola classifica andrebbe messa nel cassetto e le università sono esattamente in questa situazione perché a seconda dei dipartimenti ci sono dipartimenti con 30 docenti dipartimenti con 200 docenti e quindi ci si ritrova esattamente in questa situazione qual è la risposta che dà Spiegel-Holter Spiegel-Holter dice ma noi possiamo vivere anche senza classifiche cioè in realtà se noi pensiamo al sistema sanitario dobbiamo riconoscere che c'è una variabilità che non dipende dall'abilità o dallo scrupolo dei medici ma dipende da tanti da tanti casi della vita sostanzialmente dal fatto che diciamo arrivano pazienti più anziani che tutte cose che non puoi controllare quindi l'atteggiamento giusto è quello di capire se ci sono delle situazioni anomale quindi l'idea è comprendere qual è la variabilità statistica e individuare quei pochi ospedali che sono statisticamente anomali e nel Regno Unito era effettivamente capitato per esempio c'è un noto scandalo dell'unità di chirurgia pediatrica di Bristol che aveva una mortalità enorme e dopo le indagini risultò che non seguivano i protocolli che diciamo c'erano veramente delle negligenze nella gestione degli interventi chirurgici ma nel resto se hai variabilità naturale non dovresti fare particolari interventi dovresti semplicemente continuare a monitorare quindi in questo caso Spiegel-Holter disegna questi limiti di confidenza questi qui sono i limiti di confidenza quelli più larghi sono i limiti al 99,8% che sono quelli che nel controllo di qualità vengono usati e la constatazione è che non c'è nessun ospedale anomalo nel senso che nessuno sta fuori da questi limiti se vuoi essere molto severo puoi indagare cosa succede quando sei fuori dai limiti al 95% che è l'imbuto più stretto in questo caso se consideri il 95% vedi che ci sono quattro ospedali un po' critici che sono questi quattro quindi potresti aprire un'indagine su questi e vedere magari si scopre che lì l'età media dei pazienti è più alta quindi magari è del tutto sensato e poi vedi degli ospedali tra virgolette virtuosi ma anche qui magari è l'età media dei pazienti più bassa o qualche altra cosa ok ecco e quindi questo qui è la diciamo il suggerimento di Spiegel-Holter ma questo si verifica anche per la VQR allora quando è uscita la prima VQR nel luglio 2013 io mi ero divertito a prendere un po' in giro a prevedere quello che sarebbe successo e anche a fare dell'ironia avevo scritto un articolo di Fanta la valutazione universitaria in cui immaginavo un ipotetico paese la Ruritania così un paese del blocco sovietico siamo ancora ai tempi diciamo prima della caduta del muro che faceva una valutazione della ricerca e poi mandava nei campi di reeducazione i rettori degli Atenei Grandi perché li mandava nei campi di reeducazione perché il risultato della valutazione veniva ad imbuto gli Atenei Grandi finivano tutti qui naturalmente a causa dell'imbuto e quindi la gara veniva vinta dagli Atenei Piccoli e quindi il Politburo a quel punto prendeva i rettori dei mega Atenei li bastonava e li mandava a coltivare la terra e a rieducarsi insieme ai contadini insomma questo qui era la mia ipotesi io l'avevo fatto in maniera scherzosa ma poi invece si è avverato perché il Corriere della Sera si è messo a bastonare la statale perché era stata superata dalla Bicocca sostanzialmente però Vago non è stato mandato in un campo di reeducazione per fortuna così ecco questa cosa qui è andata avanti nella VQR successiva per esempio se uno va a vedere l'area 9 trova una cosa interessante cioè trova che l'Università di Messina e l'Università Telematica Unicusano battono il Politecnico di Milano così e ovviamente vale la solita legge dell'imbuto il Politecnico di Milano è quello che ha più docenti nell'area 9 che è Ingegneria Industriale dell'Informazione e quindi per ragioni statistiche deve stare nella parte stretta dell'imbuto e quindi non ha nessuna possibilità di vincere la gara a livello nazionale quindi diciamo questa è questa è la situazione e questa qui è la seconda ragione per cui è impossibile fare classifiche quindi la prima ragione era quella dell'incomparabilità e abbiamo visto che per rendere comparabile puoi tentare di usare gli Z-score però se usi gli Z-score hai degli esiti cioè devi essere pronto ad accettare che il grecista un grecista vale quattro premi Nobel per la fisica devi essere pronto ad accettare questa cosa qui però l'altro problema è quello dell'imbuto nel senso come fai a gestire questa cosa qui allora in realtà quella famosa commissione Cruy non si è arresa e ha pensato di compensare anche l'effetto dell'imbuto ok allora la prima cosa da dire è che se si usano gli Z-score invece dei voti VQR originali non non si elimina l'effetto dell'imbuto cioè l'imbuto continua a esserci per far sparire l'imbuto visto che l'imbuto si stringe come 1 su radice di n quindi la formula matematica che dice quanto largo l'imbuto è 1 su radice di n quindi quando n diventa grande il denominatore cresce l'imbuto diventa più piccolo la soluzione è quella di moltiplicare il voto medio che chiamiamo Z assegnato per radice di n in questo modo si ottiene quello che fu battezzato voto standardizzato così questo cosa significa? Significa che in base al diciamo alla standardizzazione proposta dalla CRUI se ho due dipartimenti che hanno lo stesso voto medio ma uno è quattro volte più grande il suo voto diventa il doppio quindi ho due dipartimenti in cui mediamente i docenti sono perfettamente sullo stesso livello potrebbe anche aver preso tutti gli stessi voti sia nel primo dipartimento che nel secondo dipartimento però quello più grande si trova ad avere il doppio come voto standardizzato attenzione che è una cosa a doppio taglio che il voto può essere positivo e negativo quindi se sei negativo e sei di dimensioni doppie il doppio significa invece che avere meno uno ti ritrovi meno due sostanzialmente ecco c'è anche il paradosso dei gemelli per cui se tu hai due dipartimenti perfettamente uguali come voto medio come numerosità e li metti assieme a questo punto viene moltiplicato per radice di due il voto quindi per esempio hai due dipartimenti in cui non so tutti sono eccellenti hanno tutti fatto l'unplan hanno preso uno se tu li metti assieme diventa radice di due così quindi cresci ecco va beh quindi questo qui è per dare un'idea di come funziona questo algoritmo però questo ancora non ci spiega perché l'ISPD ha una distribuzione bislacca che io chiamerei a vasca da bagno allora il punto è che io per ora ho parlato del voto standardizzato ma in realtà quella classifica che avete visto è una classifica in cui c'è una quantità che si chiama ISPD indicatore standardizzato di performance dipartimentale il quale è calcolato con questa formula che credo che per il 95% dei colleghi sia diciamo abbastanza indecifrabile allora cerco di renderla decifrabile invece da dove salta fuori l'ISPD allora salta fuori da questo voi dovete immaginare che ci sia la benedetta curva gaussiana come prima ecco questa distribuzione gaussiana la chiamo distribuzione di riferimento dei voti standardizzati poi dovremmo discutere da dove salta fuori però diciamo in qualche modo ANVUR ha calcolato questa distribuzione di riferimento e voi avete il vostro voto standardizzato ottenuto con gli Z score che è questo VS allora andate a vedere la distribuzione di riferimento prendete il voto vostro standardizzato il voto standardizzato e andate a vedere quale percentuale della distribuzione sta a sinistra vedete qui è il 10% quindi 90% a destra 10% a sinistra in questo caso il vostro ISPD vale 10 se invece il voto standardizzato sta qui il 90% sta a sinistra il 10% sta a destra ISPD vale 90 chiaramente questo ricorda molto i percentili cioè per chi sa cos'è un percentile questo ricorda un percentile scopriremo che però non è il percentile però vorrebbe vorrebbe essere il percentile da un certo punto di vista ok vediamo invece i risultati i risultati del 2017 sono questi sono stati pubblicati i primi 350 dipartimenti e facendo un grafico in cui metto gli ISPD e qui metto il numero di dipartimenti che hanno ottenuto quegli ISPD vedo una roba strana ci sono 119 dipartimenti che hanno fatto l'unplan hanno preso 100 su 100 così poi ce n'è un buon numero una trentina che hanno preso 99,5 e poi c'è un calo rapidissimo e tutto sommato ci sono pochi dipartimenti tra 70 80 e 90 così c'è proprio un andamento molto estremizzato cioè come dire che ci sono c'è un manipolo di dipartimenti molto bravi e poi pochi dipartimenti sparsi qui in mezzo stranamente non è stato pubblicato il valore degli altri cioè è stato fornito ai rettori cioè i rettori ce l'avevano per il loro Ateneo i punteggi ma non è stato reso pubblica la distribuzione l'abbiamo resa pubblica noi diciamo qualche settimana fa ed è stata ripresa anche dal Corriere della Sera la notizia perché la distribuzione è abbastanza sorprendente la distribuzione vera abbiamo avuto una gola profonda che ce l'ha fornita è fatta in questo modo è una distribuzione che io chiamerei a vasca da bagno altissima a sinistra molto bassa in mezzo e poi di nuovo altissima a destra e la cosa veramente sorprendente è 119 che hanno fatto l'unplan e 119 a 0 titoli cioè che hanno preso 0 su 0 0 su 100 cioè 119 dipartimenti canaglia non è che se tu prendi 10 ti sei andato tanto meglio quindi ce ne sono ben 236 che sono minore o uguale a 10 come punteggio e 260 che è maggiore o uguale a 90 cioè come se l'università italiana si fosse divisa in diciamo in tre parti una parte di eccellenti una parte di canaglie e poi una mediocrità in mezzo insomma ma sostanzialmente praticamente un terzo un terzo un terzo cos'è questo qui è l'elenco dei dipartimenti a 0 titoli è la lista della vergogna questa cos'è lista della vergogna che guarda caso è soprattutto concentrata al sud quindi qui sono il numero di dipartimenti con 0 titoli e questa è la percentuale in Sicilia il 51% dei dipartimenti a 0 titoli una situazione che dovrebbe preoccupare e cosa succede nella nuova VQR nella nuova VQR di nuovo sono stati pubblicati solo i valori dei primi 350 quindi non sappiamo cosa succede qui però pensando che l'algoritmo è lo stesso possiamo immaginare che di nuovo la curva si avasca da bagno e questa volta ci sono 140 dipartimenti con 100 su 100 quindi possiamo immaginare che ce ne siano circa 140 a 0 titoli e quelli con gli SPD meno o uguali a 10 probabilmente sono circa 300 quindi la situazione si è ulteriormente estremizzata così e qui nascono delle domande insomma Anvur replicando alcune nel 2017 aveva detto che la definizione dell'indicatore standardizzato si fonda su un modello matematico solido quindi dice roba di cui potete fidarvi e Andrea Graziosi sempre nello stesso anno diceva gli esercizi di valutazione hanno raggiunto uno degli obiettivi favorire una convergenza verso uno standard comune e più elevato della qualità della ricerca cioè sta dicendo che tutto il paese sta andando insieme allora io non so come facciano queste due cose stare insieme cioè se l'indicatore è solido mi sta dicendo che il paese si sta spaccando in due e se non è vero che il paese si sta spaccando in due l'indicatore non è solido sostanzialmente ok perché la classifica è tenuta segreta? ecco questa è una bella domanda e non lo dico a caso noi nel 2017 abbiamo fatto una richiesta di accesso civico con la legge Madia e la richiesta è stata respinta abbiamo chiesto di avere i dati che permettevano di replicare il calcolo di ISPD così anche perché vengono distribuiti dei bei soldi con questi dipartimenti di eccellenza e non c'è nessun modo di verificare che i calcoli siano giusti nel senso che nessuno ha diciamo le formule le sappiamo però ci mancano i dati di partenza ce li hanno rifiutati dicendo che avrebbero dovuto darci dei dati che siccome in alcuni dipartimenti ci sono pochi docenti per settore darci quei dati significava violare la privacy perché vuole dire avere i voti della valutazione VQR individuale quindi c'è una specie di circolo vizioso sostanzialmente per la privacy non puoi diffondere i voti VQR ma se non puoi diffondere i voti VQR nessuno è in grado di controllare che l'ISPD sia calcolato giusto così e la domanda ovviamente è come mai l'ISPD è distribuito a vasca da bagno l'altra domanda che uno perché diciamo l'abbiamo visto che è distribuito così ma perché viene fuori questa distribuzione allora questo di nuovo ringraziamo Bertoli Barsotti il quale in un commento su Roars ha detto beh ma non è così strana questa distribuzione è perfettamente coerente con un voto standardizzato normale normale significa gaussiano quindi con quella distribuzione a campana ma con varianza ben più grande di uno cos'è che sta dicendo Bertoli Barsotti sta dicendo che c'è un errore di statistica sostanzialmente che hanno fatto un errore di calcolo allora in che senso ha fatto un errore di calcolo allora se la distribuzione di riferimento vi ricordate che a un certo punto io ho citato la distribuzione di riferimento e l'ho fatto qui ok cioè ho detto per calcolare gli SPD tu devi confrontare il tuo voto standardizzato del dipartimento con questa curva questa curva è quella che io chiamo distribuzione di riferimento allora se la distribuzione di riferimento fosse coerente con la distribuzione dei dipartimenti reali quindi se c'è coerenza tra quella che viene assunta come riferimento e i dipartimenti reali in questo caso quando tu calcoli gli SPD dovresti trovare un SPD di questo tipo cioè gli SPD non dovrebbe essere a vasca da bagno ma dovrebbe sparpagliarsi tra 0 e 100 ok allora il fatto che il nostro SPD non si sparpagli tra 0 e 100 vuol dire che la distribuzione di riferimento è in contrasto con le proprietà statistiche dei voti dei dipartimenti cioè vuol dire che non c'è coerenza tra l'ipotesi che ha fatto Amvo sulla distribuzione di riferimento e invece quello che è la distribuzione vera dei dipartimenti e Bertoli Barsotti ha perfettamente ragione se io prendo una distribuzione reale una distribuzione reale dei dipartimenti qui l'ho fatto con una simulazione cioè ho fatto dei dipartimenti immaginari sostanzialmente generando dei numeri pseudo casuali se io prendo dei dipartimenti immaginari che hanno una dispersione che è maggiore di quella ipotizzata da Amvur Amvur ha ipotizzato che la dispersione fosse 1 se io la triplico questa dispersione metto 2,9 e calcolo gli SPD trovo un ISPD esattamente a vasca da bagno cioè quindi quello che succede è che Amvur sta ipotizzando che la distribuzione abbia dispersione 1 e invece la dispersione vera è il triplo è il triplo di 1 e quindi questo qui è la simulazione quella che vedete qui sopra quella sotto è la realtà qui sotto ci sono c'è la vasca da bagno che noi abbiamo osservato questa qui è una vasca da bagno simulata al calcolatore questa qui è la vasca da bagno effettivamente che noi conosciamo e questa curva qui è quella che probabilmente è la distribuzione dei voti standardizzati quindi noi non li abbiamo perché Amvur non ce li vuole dare ma i voti standardizzati sono distribuiti in questo modo e questa qui è una campana gaussiana probabilmente è una campana gaussiana però è molto più larga della campana gaussiana cosiddetta standardizzata la campana gaussiana standardizzata si ferma praticamente a meno 3 e si ferma a più 3 da questa parte mentre noi c'è una campana che va da meno 8 a più 8 è molto più larga ok da questo punto di vista questo qui sembrerebbe quasi un errore veniale nel senso ok hai sbagliato a calcolare la varianza non ci vuole niente a correggere basta prendere quel 2,9 è una costante quindi basterebbe dividere il voto standardizzato e poi applicare la formula dell'ISPD ecco perché non è stato fatto questo? allora ovviamente è difficile fare processi alle intenzioni e l'altra cosa però che mi insospettisce è perché hanno reso inaccessibili i dati che consentirebbero di farlo perché se io avessi l'ISPD con qualche decimale ricordatevi che l'ISPD va a scatti mi danno 99,5 o 100 quindi ho 90 90,5 90,1 e così via ma se invece di avere 90,1 avessi tre cifre decimali io potrei con le formule a disposizione ricostruire il voto standardizzato e quindi potrei anche fare la correzione per la dispersione che non è calcolata correttamente perché non è non è reso disponibile allora io qui ho una congettura la congettura è che in realtà non c'è una sola vasca da bagno a creare problema ma che ci sono tante vasche da bagno quanti sono i settori scientifici qui ho provato a ricostruire le vasche da bagno la parte destra delle vasche da bagno delle aree scientifiche e ogni area scientifica ed ogni settore scientifico ha una vasca da bagno diversa quindi se venissero resi disponibili i dati uno si renderebbe conto che la distorsione della dispersione è una distorsione che cambia da settore scientifico a settore scientifico uno dice che cosa vuol dire questo allora questo diciamo questa forse è la parte più difficile del seminario il fatto che la distorsione sia diversa da settore scientifico a settore scientifico significa che c'è un bonus per alcune aree per esempio la vasca da bagno dell'area 6 è più accentuata c'è una vasca più ripida sulle pareti invece la vasca da bagno dell'area 2 è una vasca da bagno meno alta la conseguenza di questa cosa è che se uno prende per esempio questo qui era fisica a Brescia uno prende la fisica i fisici di Brescia e nella distribuzione nazionale si collocano qui quindi sono molto bravi sono terzi in Italia i fisici di Brescia questo sto parlando della VQR vecchia e vado a vedere scienze mediche di Brescia non sono così bravi sono tredicesimi e si collocano qui se però si applica la standardizzazione crui cosa succede? succede che la distribuzione di riferimento viene sempre considerata la stessa che è questa qui rossa ma la distribuzione reale dei dipartimenti di fisica è questa la distribuzione reale di quelli di medicina è questa quindi l'errore per fisica è un errore limitato quello sulla dispersione invece l'errore per medicina è un errore spaventoso la conseguenza però è che il voto crui per medicina diventa 4,48 e per fisica 1,29 cioè mentre qui senza dubbio i fisici erano più bravi dei medici dopo la trasformazione a causa delle diverse vasche da bagno i medici diventano quattro volte più bravi allora se noi avessimo a disposizione i dati completi queste cose salterebbero all'occhio invece avendo tutti i dati ammucchiati intorno a 99 100 praticamente uno non se ne rende conto cioè per esempio questa fisica che diciamo viene penalizzata da medicina alla fine finisce talmente schiacciata anche lei nella zona alta che uno non ci fa non ci fa caso così ecco quindi la congettura è che rendere pubblici i voti standardizzati oppure gli SPD con un numero sufficiente di decimali metterebbe sotto i riflettori la disparità di trattamento tra dipartimenti di varie aree cioè si vedrebbe che al top dei dipartimenti di eccellenza ci sono dipartimenti di eccellenza tutti della stessa area per esempio dipartimenti di area medica potrebbe essere così e quindi uno capirebbe che tutta la baracca è una baracca di cui non ci si può tanto fidare ecco io qui devo sempre citare Bertoli Barsotti poi spero che interverrà ha anche evidenziato una svista questa è proprio una svista che forse vale addirittura un ricorso la svista è legata a questo ad Ambur secondo la legge spetta di definire l'indicatore standardizzato l'indicatore standardizzato è stato pubblicato nella nota metodologica e nella nota metodologica c'è questa formula però questa formula non è quello che ho spiegato io quello che ho spiegato io richiederebbe che la cosa fosse scritta così sapete c'è un refuso nella formula hanno pubblicato un refuso quindi c'è una formula che non è quella che stanno usando da quello che si capisce la conseguenza quindi è che se la formula utilizzata fosse quella pubblicata verrebbe fuori un ranking completamente inattendibile ancora peggio di quello della vasca da bagno che ho detto io ma io sono convinto guardando i dati che loro stiano usando la formula tra virgolette giusta però il problema è che sulla nota c'è una formula sbagliata quindi se uno chiedesse in qualche modo anche a un giudice per esempio di verificare se i calcoli se il ranking pubblicato rispetta quello che c'è nella nota è probabile è possibile che in realtà siano in contrasto così il che sollerebbe un interessante problema perché stava ad Anvur definire il criterio il criterio è stato definito ed è questo ma probabilmente la classifica che è stata pubblicata non è stata calcolata con questa formula e quindi questo per esempio potrebbe invalidare tutta la procedura forse chi lo sa ecco a me sembra che tutta questa gara sia nasca sgangherata insomma ci sono tante ragioni per dire che è sgangherata e faccio fatica a trovare dei meriti e uno si domanda ma è possibile che non ci si renda conto di quanto diciamo sia tutto così sgangherato io ho il dubbio che forse ci si rende conto ma che il fine giustifica i mezzi perché c'è una cosa che questi criteri fanno benissimo e la cosa che fanno benissimo è travasare fondi da sud a nord mentre la VQR non è tanto efficace a questo scopo nel senso sì il nord va meglio nella VQR ma diciamo la percentuale di fondi trasferiti non è tale da creare uno sbilanciamento fortissimo invece se uno guarda i dipartimenti di eccellenza vede che sono fortissimamente sbilanciati lo vedete da queste carte geografiche qui vedete i colori intensi stanno tutti al nord questi qui sono i dipartimenti della precedente edizione e qui nel 22 questa qui è la lista di quelli che entrano in finale e come vedete sostanzialmente questo è il confronto tra quelli che erano entrati in finale nel 17 e quelli che entrano in finale nel 22 e la musica è sempre quella cioè in finale entrano i dipartimenti dipartimenti del nord al sud la situazione è molto molto diciamo molto debole e questa è infine la proiezione dei vincitori e come si vede la proiezione dei vincitori finirà per portare molte risorse da sud a nord io chiuderei con una domanda che fare allora io direi che di nuovo bisognerà chiedere i dati cioè c'è un'esigenza di chiarezza anche per capire se la formula usata è quella giusta o quella sbagliata forse c'è spazio per un ricorso al TAR anche se però qui bisogna vedere chi è titolato per farlo cioè forse ci vorrebbe un Ateneo che lo voglia fare però c'è una questione politica innanzitutto cioè alla fine tutta questa cosa qui non ha nessuna giustificazione scientifica e quindi evidentemente ha una giustificazione politica e quindi bisogna riuscire a diciamo costringere qualcuno a prendersi la responsabilità di queste politiche infine direi che c'è una fortissima connessione tra l'eterno progetto di università di serie A e serie B e anche col progetto dell'autonomia differenziata cioè effettivamente i dipartimenti di eccellenza sono probabilmente una delle misure più efficaci che additano la strada in questa direzione grazie io avrei finito grazie a tutti grazie a tutti